ciao a tutti sono claudio la regina ho sempre scritto e cantato in lingua italiana ma dal 2004 ho cominciato anche ad interpretare canzoni in lingua arbrecht canto in lingua arbrecht grazie all'incontro con i fratelli scaravaglione autori di spicco della canzone arbrecht i quali mi hanno fatto conoscere questo mondo tra i troverdi più importanti ricordo la mia partecipazione nel 2009 all'eurovision song contest di tirana con la canzone ave maria e nel 2011 con court pascha vince nel 2007 il festival della canzone arbrecht e nel 2015 con la canzone sui me vince il concorso salva la tua l'album donna arbrecht nasce da un'idea di roberto canizzaro e raccoglie le canzoni che ho interpretato in lingua arbrecht dal 2004 al 2014 l'album racconta la vita storia di vita vissuta storia economica quotidiane, storie d'amore, come Kurt Pascha, Seu Pati, o Courgette in Creature, che è una canzone scritta contro l'obuso sui minori, ad arrivare a Thueme, che è una canzone scritta apposta sulla violenza sulle donne, ad arrivare anche a Sireni Vierci, che racconta delle usanze e le tradizioni che piano piano nel tempo stanno svanendo. L'esperienza che mi ha segnato di più è stata proprio il mio primo viaggio in Albania, dove sono stato invaso da milioni di emozioni appena sono salito sul palco, ero in Eurovisione, quindi era una cosa per me impossibile da fare, ma che avevo raggiunto. Da quell'esperienza è nata proprio la canzone Tirana, che è dedicata al popolo albanese. Ave Maria, oh mai, na na na. Cdonar Bresci, te lo trovate su tutti i social e su tutti i digital store. Buon ascolto e buona musica. Mirupafshim.